Buonasera amici del hockey su pista e benvenuti all'Alea Caneva di Bassano del Grappa per la quarta giornata della Coppa Italia di serie A2 Ospite E allora Roller in possesso di pallina ora Ancora Roller, prova la conclusione Nicola Comini In velocità, cercare di partire, viene bloccato da Cristian Cocco Ancora Roller, quindi in velocità Ancora tiene, siamo nella metà campo Difesa dal Roller, ancora tiene Tiene ancora, prova, chiude Cocco Formazione Biancorosa, prova a scappare via Gol Roller, assegno il numero 4, Mattia Tottenham La formazione giallo blu, ma riparte Roller, Bassano Ancora Roller Gol Roller Ancora Roller, viene chiuso Da Nicola Comini Gol Roller Perde, però il possesso di pallina arriva Il possesso di pallina, tiene Salva Cristian Cocco Quindi in possesso, siamo dietro alla porta di Nicola Comini Ancora Roller, rigore Lancia la sfida a Mattia Tottenham Tottenham, gol La velocità, tiene Ma sbaglia tutto Svirgola, tiene Sentiamo dentro l'area Adel Caneva, gremita Per questo scontro, tra tiene Roller, Bassano ancora Cocco Tiene Chiude ancora la difesa di Cristian Cocco Ancora Roller Rigore Luotti contro Cocco Luotti contro Cocco Luotti 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 Cocco dice no Cocco dice no Puoi tentare finché vuoi Per un momento Si carica Cristian Cocco Luotti Luotti E ancora E' una metà campo Ancora Roller In possesso di Pallina Siamo nella zona difensiva Del tiene Ancora il tiene In possesso E' questo Fallo Attenzione Geremia contro Comin Geremia contro Comin Geremia 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 ancora Jacopo Geremia Jacopo Geremia Niente da fare Praticamente quasi fino alla fine Per i due minuti dati a Geremia E questo è il fallo Attenzione Altro fallo Del Tiene E altro cartellino Cartellino blu Al Rigon 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 Nicola Rigon Ricola Rigon Goal Roller Assegna Nicola Rigon Il numero 17 Alessandro Contrato Contro Cristian Cocco Contrato Parza E niente Conte Lasciamo parlare La carne